...di darsi a Dio con la consapevolezza che la nostra vita è sempre e comunque ogni giorno, dal primo giorno all'ultimo giorno nelle mani di Dio. Con questa consapevolezza vogliamo dire la preghiera dei figli di Dio. Padre nostro, che se il cielo sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come il cielo sia santificato il tuo nome, dal primo giorno alle mani di Dio, come noi rinventiamo i nostri debitori, non ci intorno in tentazione, ma libera c'è la Maria, amore. Ave Maria, e grazie al Signore con te, tu sei benedetta tra le donne, e preletti il frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria, madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte e amore. Adesso vi do la benedizione affinché ciascuno di noi possa essere benedizione per gli altri fratelli. La benedizione non è un fatto magico, ma è un dire bene degli altri, che possiamo fare a gara nello stimarci a vicenda. Il Signore sia con voi, con la sua assurda, benedica di Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Benediciamo il Signore, rendiamo grazie. Auguri.